8.000 di ante! Ante! CUR! E' più di! Ragazzi, piccolo avviso Mi si è corrotto il file audio Che io prendevo dalla registrazione Perché io registro con Fraps il video E la mia voce la registro con un altro programma Ahimè, si è corrotto il file E quindi non ci sarà la mia voce in questo video Bellissimo, fantastico! Quindi vabbè, per non farvi perdere il video Comunque ve lo farò vedere che comunque è venuto epico lo stesso Quindi buona visione! Ciao a tutti ragazzi, sono Luke E benvenuti in questo nuovo episodio della Grania Sky Oggi siamo quasi tutti Quasi tutti Quasi tutti E' tornato pro lo scemo dello schiavo E' ragazzi Oggi possiamo piantare nell'orto Allora Pippe e Tia vengono con me a salutare i nostri fans E voi magari fate qualche zappa? Ok Sì, dai Vai Faccio in cobblestone Vai, vai Cobblestone tutto Cobblestone tutto Ma perché? A volte ci deve essere Come sempre Da uomo a uomo Rivolgiamoci Nell'immenso Schiariciti la voce No, guardate qua che c'è l'immenso Vedete l'immenso? Ok, sì E l'immenso sono proprio queste persone che ci guardano Perché sono immense Sono persone davvero grandi Xander Che c'è? Eh, pure lui un po' Mi piace, ti guardo Anche tu e quella Ma anche voi avete quella parte di fans? Eh, scusa Eh, sì Magari facciamo parte di quella parte Rivolgiamoci verso l'immenso Dai Iscritto 3 2 1 Go Ma ciao ragazzoni Ma ciao Ciao carissimi Ciao Come stai? Dai Tutto bene Regà Sì Dai Ma avete condiviso il video? Pollice in su Eh, mi raccomando ragazzi Che ci tengo proprio Su YouTube Mi raccomando Regà Si Mi raccomando Ti amo Guarda Bastante Oh regà 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 Ieri mi ha scritto Uno Un commento Mi ha scritto Aliuke Ammazza quando sei buono Se volete stasera Siamo da un amico mio E giochiamo a tabut tutti insieme Dai Mamma mia Vengo subito Cazzo ragazzi Ci sono Quarantena Ci hanno messo in quarantena Meglio Sette zappe Sette zappe Allora Una Sette zappe Perché siamo sette nani Non ho capito Su di giorni Ma che tutto a me Perché le finisce le zappe Quanto è te Abbiamo il zappe Una 13-14 Grazie Mitico Andiamo 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 Perché ho 18 zappe Ragazzi avete messo l'acqua No Bene Eh raga Uno che si prende Tre sacchi d'acqua Voi in tre Se sei intanto Vado io Vado io I due secchi sono un'altra zappe Eh no È inutile consumare le zappe Se non buttano l'acqua È inutile consumare le zappe Se non buttano l'acqua Arrivo Ragazzi manca l'acqua sopra Ragazzi Sapete Questi quattro non vanno Perché c'è Vabbè fa niente C'è panna del sopra Va niente Vabbè Eh raga È inutile Consumiamo le zappe Guardate Manca l'acqua Manca l'acqua Con calma Ora Con calma L'acquifero metterà l'acqua Ho fatto signor Ah ho fatto Ok è arrivato Uno Sì uno sì Luque È un piano Eh sì Ma se mettessi le torce Da scendere Brava Joe Bravissima Joe Grande Joe Visto che sono inutilizzabili Mazza la mazza Brava Joe Mazza Mazza Ingia Tutto lì Vai 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 Zappare 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 Ma non c'è la terra colorata no C'è la terra colorata Aspettate che ve la rubo due secondi Perché non ho l'acqua infinita Quindi devo un attimo adeguarmi E tu stai facendo Zappare 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 Tranquillo Zappa 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 Noi zappiamo C'è chi sta piantando Sì Eh ma se c'è l'acqua Voglia L'acqua sta arrivando ragazzi Già c'era Ah ok Andiamo a prendere i semini Ma Xander che fai te Xander non hai di stanchi troppo Ma fatti Non stavo dicendo Andiamo a prendere i semini Ragazzi c'è un po' picco qua È vero? Non funziona Non funziona il coso dell'acqua No Sono da demolire gli orti Chi ha detto che funzionava? Come non funziona? Tu l'hai detto No Gio guarda Se aspetti un po' Si spianta la terra Ma Lu funziona Guarda Scende l'acqua Può saltellare nell'orto Ma può essere Lu guarda che questo qua è irrigato E questo qua no Perfetto Fatto Ok Guarda Lu Che scende l'acqua Quindi funziona Funziona E allora la mia invenzione di orto dall'alto funziona Allora se i babbi possono evitare di saltellare nell'orto Ci faranno un grosso piacere a tutti Xander veramente non hai di stanchi troppo? Ma guardalo come su Ma la cosa bella è che si gira e ci guarda Gio 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 Prendimi al volo Come prendimi al volo? Eeeh Lo stai plantando Salve Salve Arrivo da te E ma come cavolo saliamo al secondo piano? Eeeh Sempre al solito Non è cambiato Ragazzi sto morendo di fame Sto morendo di fame Eeeh sto mettendo il cibo Chi è che sta finendo il cibo? Diffuse 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 Chi ha? Diffuse 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 Ragazzi Ho trovato una gallina immortale Vabbè Come una gallina immortale? Gallina immortale What? Io ho fatto anche il secondo piano raga Nice Io Mo vado al terzo E chi si è messo? Chi si è messo? Chi si è messo sopra Joe? No Ho fatto il secondo piano qua Ragazzi Ragazzi Dica Io avevo fatto una richiesta Ossia Mettiamo tutta la cobblestone a cuocere Nessuno l'ha messo Non ce ne manco più di cobblestone L'abbiamo messa lui Io ne ho 31 pezzi di cobblestone Allora Qua dentro Servono slab su slab Chi le ha? Slab vieni qui Eh io ne ho La crafting sopra la cestero La crafting sopra la cestero Eh prendetele Prendetele e portatele qua Allo zoo qua Allo zoo E' fatto? Tu mato? Io gli ho Eccomi E' per salire Le ho Ma la pila La pila Ma che pila Ma Potrebbero Potrebbero anche andare bene Ma Al terzo Io avrei un'idea ragazzi Ma se Come si è cantato? Oh che figata Mio Scale Ok ragazzi Ok Ora le scale Continuano Prendetele slab Allora Bravo Così Bello No mi piace Mi piace Mi piace pure a me Aia Un gg ammitico Sì dai No Una volta Cavolo Ragazzi Prendetele slab Che metto di fianco E' fuori Non c'è il piccone Te l'ho dati tutti a te E' che c'è un piccone Per rompere questa Inizio se è giusto Come sto facendo Aspetta Io che sono sceso Sono andato i segni Io metto Il pomodori Nel rosso Miti Fate un piccone di legno Non sprecare la meridiamante Ci serve Non serve per spaccare i blocchi La zappa stanno nelle ceste Vai io Metti sotto 17 Vai Ok Ho fatto tutto Il primo Qui sopra Adesso mancherà Adesso mancherà Adesso mancherà Ragazzi Ragazzi Dobbiamo farlo E crescere Altrimenti non ci sono Adesso avete piantato Finora Allora Pomodori Carote E basta Allora Adesso Adesso Il primo Ho piantato Il pane Ok Adesso Si facciamo Ragazzi Va bene Vediamogli Aspetta Sono scale Pericolosissime Però Poi Possiamo fare delle ringhiere E laterale Ci facciamo delle ringhiere Magari Mi piace Mi piace Mi piace Raga Avete cominciato La scala Più indietro Io ho finito Ragazzi Fatele tutte uguali Le scale Per favore Allora Giusto 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 Eh Mi fatti Ah io cosa ho detto Eh Signora Joe Dobbiamo un attimo Quattro l'angolo Però Scusa Eh no Cioè Scusa il cacchio Scusa Ragazzi Qualcuno Che fa Dei barrel Per mettere Il cibo Scusa Subito Madonna Stavo cadendo giù Si è sprecato Si è sprecato Eh Quei piccolosissimo Al rapporto Capitano Facciamo Qua si fanno No no Si fanno i recinti Aspetta Ok Ehm Io non ho La legna Chi ha legna Chi ha tanta legna C'è legna La cesta No Eh la cesta La cesta Grazie Cosa devi fare Con la legna E le brazing Fermati Che devi fare Con la legna Le strancing Strancing Allora Con la legna Però ho bisogno Di scivo Sta facendo Qua c'è Grande Gianni Fai crash Gianni Lu Posso fare Dei punti Tra un orto E l'altro Queste sono Carote Le abbiamo già fatti No qui L'ultima Non si possono fare Almeno doppie Ste scale Sono veramente Pericolose Ebbè abbastanza Facciamolo solamente Si scende giù Per andare All'altro piano Sono diventato Sì No Cambia piano Facciamo su e giù Poi non E avrei un'idea Ragazzi Nel caso Qui cadiamo Perché facciamo Dei blocchi Di slime Che ci fanno saltare Sarebbe affiegato Tutto il sotto Di blocchi di slime Non moriamo più Farmarli Ci basta Un albero Di slime Sì Bellissima L'idea Di Ragazzi Fantastica L'idea Fantastica In modo che Si blocchi Di giù Si vede Per la prossima L'intro Anche il costo Di me Non so Se abbiamo Trampolino Ok Ma Sarà Una nuova Intro Finiamo Il video Facciamo già Il prossimo Già L'intrimento Allora Le faccio Un po Ne faccio Da qualche parte Ragazzi Eh Will Che vuoi Dimmi Qualcuno deve guardare Come si craftano I springer Sennò stavo qua Tutto il tempo Io Sono un po' più Fanno Sicuramente a me Mi fanno impressione Però vabbè Vabbè Non stavo cadendo Poi le perfezioneremo Raga Non siamo in live Siamo in un video Da quante che stanno registrando? Da 10 minuti e 57 Non possiamo perdere tempo Con due scale Poi le miglioriamo Dai Ok Qualcos'altro Devo fare Ragazzi Magari facciamo Un po' il pavimento Sotto Allora Ora arriverà La parte più difficile Per il quadro Dovremmo scendere Non ti puoi Embragar a me No Beh Volendo c'è l'acqua Mi arrampico all'acqua Il problema è che Non abbiamo più slab Slab di stone E' un po' io Oppure Oppure Come facciamo La costruzione Sotto Tutta collegata La colleghiamo Con legno Ragazzi Sotto c'è La costruzione Con tutte le ceste La lavorazione Del l'ortino Luca Luca Cosa Aspetta Aspetta Guardalo Guardalo Ti vi prego Facciamolo Ma non moriamo Scusa Se cadiamo Da una altezza Non spoilerate Per favore Sto un preso Cosa Darà la prossima Aito Non spoglierà Aspetta Sì Sì Giusto Per vedere Se funzionava Xander Chi è in alto Chi è in alto Io Sono in altissimo E togli quel cavolo Di blocco Sotto di me Sì Ho lasciato Per poterlo togliere Però Aspetta Un attimo Aspetta Un attimo Un attimo Troppo Pericolose Scala Dobbiamo Farlo Almeno No Non è il fatto Delle scale Piccolose È che stiamo Unendo il tutto Qui 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 Ragazzi Stiamo Unendo il tutto Eh sì Non doveva essere così Giusto Beh no No Non dobbiamo Unirli Solo Solo Un punticello Scrappato Per esempio Nella parte centrale C'è la scala Dal destra Ma sulla sinistra Nulla Perché O li facciamo tutti a destra O tutti a sinistra Oppure dobbiamo mettere più simmetrico Vabbè non è brutto però Aspetta parliamo Vabbè io ho stoppato Per me Ragazzi Ho stoppato A me piace La simmetria E quindi Con la centrale Non c'entra un cazzo Io sto facendo bene Io giù Mi sto facendo Ma mi spiegate Mi spiegate Il ponte sopra Cosa c'entra Con quelli Vuoti In mezzo Infatti togliamo Questo davanti Piccone Mi da un piccone La porta Eh non ce l'ho Grazie Vado E un caffè Per favore La simmetria Ah intendi La scala Di quella centrale Luca Ti faccio delle scale Pure esterne Va anche Va anche No Va anche bene Il ponte in alto Mi dite a che serve E' per non scendere E risalire E allora lo riempi tutto Non fai i buchi vuoti Allo centro E allora facciamo solo dietro Come qua dietro A sto punto Allora si fanno I cosi sopra E sopra Dove sei Lui e Xander Si chiude tutto E si mettono le zone Cesto Vaffanculo Senza fare Tutta la costruzione sotto Anche perché è un casino Andare in basso E se le scale Lu E se le scale Le facciamo salire Al centro Invece che dietro Cioè qui Cosa per annaffiare Ok ragazzi Intanto poi Noi finiremo le scale Con calma E nei prossimi episodi Vedremo tutto qua sotto Cosa riusciranno a fare Magari non so Un magazzino per l'orto Eccetera eccetera Ci state? Si si vedremo Vedremo Io ho già in mano Il materiale per domani O per i prossimi episodi Ragazzi un bacione Un abbraccio Per averci seguito Come al solito Ricordate il pollice in su Ricordate il live Ricordate il canale In descrizione Da Luke A tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao 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 core Ciao 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 Uh Mi ha uscito a ponere La baldracca Il terzo piano Si 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 Vai Oh non fate casino Che la gente dorme Vai vai O chi si fa sgamare Paga il mech Vai vai Oh non fate La gente dorme Ecco